Una rapide qui al mercato, la scritta è chiarissima, però vogliamo spiegarla? Sì, è stata fatta una cosa un po' scherzosa per raccontare la verità, che il mercato qui è morto, è morto veramente. Io ho il padrone del locale e qua non riesco più a pagare l'affitto, sto in chiaro di una rata del leasing, cioè stiamo messi tutti tutti male qui. La strada è una cosa scherzosa, però per dire veramente come stanno le cose, che è morto qui, è tutta morta. Quindi non vi bastano gli incontri che ci sono settimanalmente in comune? No, sono accontentini per farsi stare buoni, ma non servono niente alla fine, come la vedo io. Secondo te cosa servirebbe per riportare un po' di gente qui lungo le strade che sono deserte? La prima cosa è subito rifare i lavori, strutturare almeno questo del pesce per dare un'impronta e dire sì, io i lavori li voglio fare, invece nemmeno questo, che loro ce l'hanno i permessi per questo e non capisco perché non li fanno. Questo sarebbe già un input per dire sì, io i lavori li voglio fare, non li fanno. E poi non lo so, inventarsi qualcosa, far venire alcuni giorni qua un mercatino intorno a queste vie, non far parcheggiare i furgoni qua, perché è sempre come se c'è una recezione. E poi la cosa principale è far tornare al mercato, subito, il prima possibile, in 5-6 mesi far tornare al mercato. Grazie a tutti.